Come ha avuto la vittoria? Adesso aspetta solo a noi, questo è solo l'inizio, è solo un punto di partenza e dobbiamo continuare così. L'Avellino è una neopromossa come noi, sta facendo molto bene, è una squadra molto fisica, che corre molto come noi. Andiamo là sicuramente non battuti, ma noi giocheremo tutte le nostre carte come abbiamo sempre fatto. Per adesso sto giocando, il mister mi sta dando fiducia, mi sta facendo giocare anche in posizioni non mie, però non c'è nessun problema. Anzi, sono contentissimo del mister che mi sta dando questa opportunità, questa fiducia. Devo migliorare intanto, come d'altronde è normale che sia, siamo qua apposta per quello. A Carpi c'è tutto per fare bene, c'è tranquillità, serenità, città bellissima, carina, nessuno ti mette le pressioni che comunque a Spezia un pochino c'erano. Fino adesso mi sono trovato splendidamente qua, quindi per adesso diciamo che la scelta è stata quella giusta. Grazie. 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 Grazie.